A Catania, Nicola Pozzi ha raggiunto le 200 presenze in campionati professionistici, l'esordio a soli 16 anni con la maglia del Cesena. Enzo Maresca a Catania ha messo a segno il suo ventesimo gol in Serie A. Nella sua prima da allenatore blucerchiato, Delio Rossi affronterà la Lazio, squadra che ha allenato per ben 4 anni. Sono 5 gli ex di turno, Berni e Di Silvestri nella Samp, Stanchevicius, Zauri e Foggia nella Lazio. Negli ultimi 48 precedenti Amarassi tra Sanpe e Lazio la sfida si è conclusa 18 volte in parità. Negli ultimi 20 anni invece il segno X è uscito solamente 3 volte, l'ultimo nel 2007-2008.